Dobbiamo stare attenti a non stringere le nostre strategie in questo momento di contrasto solamente a un'ottica ovviamente di contrasto e giustamente di guerra al terrore e al terrorismo. E' molto importante e interessante la strategia proattiva per il Mediterraneo, come ha illustrato il Ministro Gentiloni. Al suo interno io credo sia molto importante dedicare uno spazio importante alla prevenzione e al contrasto del radicalismo. Questa è oggi la sfida vera. Oltre al contrasto dobbiamo oggi eliminare gli spazi dove il reclutamento, dove appunto questa ideologia trova spazio e continua a trovare spazio tra i giovani. I giovani non solo dei paesi a maggioranza musulmana ma anche tra i giovani europei e i casi di giovani che dall'Inghilterra continuano a tentare di arrivare in Siria o appunto da altri paesi europei ce lo dicono. Su questo penso che il nostro paese può oggi giocare un ruolo importante dato anche la buona reputazione, il dialogo, l'amicizia con i paesi della coalizione a maggioranza musulmana. Dobbiamo in qualche modo credo rendere più visibile questa alleanza, questo patto contro il radicalismo e penso che il nostro paese, soprattutto dopo il vertice degli Stati Uniti, un vertice che ha visto insieme davvero per la prima volta società civile, governi di paesi occidentali, di paesi islamici, io credo che l'Italia possa oggi anche alla luce della relazione privilegiata con l'Egitto svolgere una funzione visibile per dare fisicità a questo patto coinvolgendo per la prima volta forse sia i parlamenti e quindi un appello anche tra una dimensione parlamentare di cooperazione in questa fase tra le diverse sponde del Mediterraneo ma anche coinvolgendo i governi e le società civili che sono una parola chiave in questa fase.